Ben trovati al concerto appuntamento con le informazioni di 50 canali e con l'edizione pomeridiana nel nostro notiziario di oggi venerdì 3 dicembre 2021 che apriamo con la prima pietra delle ponte che collegherà le due sponte dell'Arno a Pisa, ciclo pedonale. Inverno, estate, sempre, non c'era orari. Cominciava la mattina presto perché c'erano i maglioli, poi c'erano quelli gli operai della Risciagginori. Antonella Melani è la figlia di uno degli ultimi navicellai di Riglione. Suo padre, Ugo, dal 46 a tutti gli anni 70 ha traghettato centinaia di persone tra le due sponde dell'Arno. Per due volte c'è caduto dentro e l'è sempre andata bene. Quando c'era la piena, lui la notte si alzava perché aveva paura che li portasse via la barca. Là dove c'era il passo di barca adesso sorgerà il nuovo ponte ciclo pedonale, un'opera dal costo di 4 milioni e mezzo in parte finanziata dalla regione. È una risposta importante che diamo ai cittadini del quartiere di Riglione ed è un modo anche sostenibile per commettere due parti fondamentali dello sviluppo della città di Pisa. 4 metri di larghezza, passerella ciclo pedonale, all'occorrenza anche transitabile dai mezzi di soccorso. Avendo la possibilità di cofinanziare quest'opera per effetto di un fast park che non verrà più realizzato qui nella parte di Cisanello, ma a questo punto tramite un accordo e una convenzione con il comune attraverso nuovi parcheggi a Riglione sarà un modo per deconcessionare completamente quest'area. Un'opera strategica, sottolinea il sindaco, di ricucitura di due aree importanti della città, di cui una in espansione come Cisanello. Qui c'è anche il costruendo nuovo ospedale di Cisanello, un'importante infrastruttura che alleggerà anche del traffico, l'entrata del ponte delle Bocchette perché coloro che arriveranno dalla parte della città di Riglione, la parte di Riglione Oratoio potranno esufruire di questa importante infrastruttura. I tempi previsti di consegna e inaugurazione? La nostra sfida è inaugurarla per inaugurare l'opera a Natale 2022. Grazie 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 Grazie